allora signore e signori buonasera come potete vedere questo splendido panorama ci troviamo alla festa dell'unità di torrita niente siamo venuti a presentare l'ultima serata della festa visto che è stata ben organizzata potete ammirare il panorama tutti gli stand gastronomici della festa che di buon appetito può sempre venire a mangiare qua ora potete ammirare le quinte dietro le quinte del parco discoteca non si vede niente ma stasera come tutte le grandi come tutte le grandi rette televisive organizzeremo anche noi una festa non vi dico che sarà come bandiera gialla o stasera a me butto ma comunque sarà una bella festa niente si fa un giretto con il nostro operatore oncologico niente seguitemi prego il mio operatore di seguirmi non corra troppo però è mi seguite allora potete vedere sulla vostra allora ora niente ora si va si va a rompere le scatole a a questa gente qua che lavora niente ce n'è uno che già preoccupato senza manca arrivare prego il mio operatore con la telecamera di andare avanti prego si accomodi vado avanti io si sale vai c'è un ciuffo fuori posto allora andiamo a vedere andiamo a vedere basta basta ci vediamo stasera ma dopo non ci senti niente ci rivediamo discoteca stasera ma dopo non ci senti c'è sì allora signore e signori ripetiamo il nostro collegamento come potete sentire dal sottofondo siamo in uno in un parco discoteca ora ci avviciniamo al nostro gli giochi alex detto il mito proviamo a intervistarlo come potete vedere subito si dà un po delle arie mostre il suo nuovo disco lo vedete la salute bella ma sei troppo buona guarda meglio ancora madonna che penso di picca ma non sono in diretta su siamo su dove siamo su telepelo telepelo 2000 mi piace allora lo facciamo vedere sì sì vai allora signori io qui presento sono qui in veste di presentatore questa sera dovevo intervistare il nostro caro amico luice ciuccillo che si presenta la sua nuova produzione discografica mi dice come si chiama la bambola un attimo telepelo telepelo o radiopelo telepelo telepelo cosa è tutto però tutti questa c'è da pelare cosa questa c'è da pelare ma penso che si prenderà guarda che con questa c'è da pelare diverso un po meno sull'altro guarda la c'è grillo che non sa più cosa fare dicevo una cosa stasera siamo qua torrita di siena ora qua il nostro operatore ci ha fregato il mio microfono siamo a torrita di siena per presentare la serata discoteca come vi dicevo prima questo è il nostro di giochi vi mostro il nuovo disco sarà una bomba mi emoziono quando ci sono queste cose mi emoziono guardate qua guardate il primo piano questa bella coperta di lana stacca che io ve la regalo io ve la regalo ve la vendo a 5.000 5.000 5.000 5.000 guarda che prezzo che ha questa che prezzo no no non vale la pena bisogna tenerlo per sé facciamo in serie dai sì sì niente come vi dicevo basta ci vediamo dopo a saccato pubblicità pronto signori siamo nel reparto pub ora si prova a entrare si prova già vedo gli occhi scorbutici delle ragazze pub prego prego il mio operatore che mi segua scusi signorina ma com'è questa birra dai giuseppe buona come buona no no proprio un semplice madonna come è diventata rossa che devo dire dica qualcosa è buona no come aveva detto prima è buonissima come aveva detto prima io poi giuseppe l'ho detto avevi detto che era buona madonnina quant'era buona prego il mio operatore di inquadrare che pezzo ma guardate che pezzo ragazzi allora scusi signorina lei come si chiama assunta assunta assuntina non c'è nessuno non c'è nessuno bisogna entrare in cucina entriamo in cucina entra in cucina buonasera ecco 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 qua il boss della del disco pub qua buonasera buonasera allora no corre 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 te ripieni stacca 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 vai vai stai ripiando signora scusi signora come va dove corre pasquale non corre pasquale detto pasqualino bevo pane e mangio vino allora signor pasquale che mi racconta ma che ti racconta figliolo che oggi è festa e domani è lunedì bisogna andare al lavoro accedita al boricchio niente chiudo eh chiudo ci vediamo dopo anzi prima facciamo una panoramica qua vediamo due strulli che vanno al giro eh signorini che mi racconta saluto Paolo intanto è perché io che so schiuma saluta anche te vai un funcino ti posso dare io ma che sei scemo niente si ripia si va a intervistare un pochino di gente no 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 Paolo vai allora siamo all'entrata all'ingresso di questa festa ci avviamo verso queste bancarelle non sappiamo che si troverà comunque ci abbiamo spero solo che questi ragazzi ci fanno eh ragazzi come si fa eh bisogna contribuire contribuite contribuite ragazzi ora provo ora no no ci sono ci sono carabinieri no ci sono carabinieri ci sono carabinieri posso passare grazie allora come potete prego il mio operatore di inquadrare quello che vende quest'uomo ora si intervisterà per sentire che prezzi che fa buonasera come si chiama muhammed agli argent muhammed agli argent vuoi una cassetta vuoi parecchio argente dio maiale ma che ma sei toscano si si sono toscano sono napoletano sposta sposta giovanni non ci ammazzare attenzione prego che prezzi fai chi? che prezzi fai che prezzo fa eh quanto la vendi una cassetta cinque carte e che sono queste carte da mille cinque carte da mille da mille cinque milo ammazzate quanto sei caro però niente non si può comprare niente da questo no l'occhiali no io ce l'ho niente guardate che orologini bellini che c'ha sono orologini a molla a smalla e a scolla quello che capita capita orologini a scazzo a smazzo niente ora si chiude si ripiglia dopo il nostro collegamento prego il mio operatore allora posso? vado allora ora si va a intervistare qualcuno che mangia si prova si vede lo schiaccino ho detto lo schiaccino non si sa perché lo chiamo lo schiaccino eee ora vengo ora vengo vai che faccio film io sono un divo di hollywood allora che mi raccontare ma che mangia te che dici che sono? ma sono troppo ignorante per capire noccioline? si no ho sbagliato su lo vedo troppo serio troppo tirato stacca perché se comincia a dire che pensi di lui poi tocca tagliare la pellicola guarda qua che tavolata prego prego occhio al fuggitivo chiappalo quel fuggitivo chiappalo chiappa quel fuggitivo chiappalo con sta telecamera aspetta no no siamo in collegamento diretto dov'è? ha perso il fuggitivo ha perso il fuggitivo va beh si ritorna alla base ecco la nostra come si può definire operatore ecologica vedete come pulisce? la serena l'amore mio serena mi dai un'intervista? come si chiama? mi dici come ti chiami? serena serena come? frangiosa cosa? che? frangiosa no non l'ho capita ma comunque io spero frangiosa io avevo capito già cosa comunque un ricompare la fuggitiva ma si vede che sta arrivando ecco prego là guardate la fuggitiva prego il mio operatore di inquadrarla la fuggitiva là la vedi? basta ah che? oh c'ho da mandare la Hollywood basta chiudo chiudo il collegamento ci risentiamo alla prossima puntata la fuggitiva Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. 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 a tutti.